Sfiorano i 37 milioni di euro con una crescita netta di 7 milioni rispetto all'anno precedente i fondi assegnati al programma 2012 per l'innovazione e la ricerca scientifica. Il presidente Dono Valder ha guidato la consulta provinciale per l'innovazione e la ricerca insieme all'assessore Sabina Casalatermour e al collega Roberto Bizzo. I fondi per il 2012 sono in crescita rispetto al passato. Siamo bravi per quanto riguarda i posti di lavoro, siamo bravi anche per quanto riguarda il PIL pro capite però per quanto riguarda la innovazione, cioè posti di lavoro di un altissimo livello specialmente orientati verso il futuro, lì abbiamo da fare ancora qualcosa e perciò dico che abbiamo previsto fondi all'interno del nostro bilancio però adesso dobbiamo elaborare le priorità, elaborare i programmi concreti programmi che vengono realizzati tramite il TIS su questo livello provinciale e anche dove noi possiamo intervenire nelle varie aziende. È importante distribuire i fondi rispettando determinate priorità dando più valore ai progetti maggiormente qualificati. Proseguiamo con un forte sostegno all'innovazione perché siamo convinti che è lo strumento fondamentale per dare possibilità di crescita alle nostre aziende e contemporaneamente garantire ai nostri giovani un futuro con piena e buona occupazione. Fondamentale è la collaborazione tra tutti gli enti e le organizzazioni che fanno ricerca sul territorio. Io sono dell'opinione che dobbiamo investire soprattutto nelle persone, nelle teste delle persone così che i nostri giovani anche in futuro abbiano l'occasione di formarsi bene di trovare lavoro in questa provincia e che esiti di questa ricerca che noi sovvenzioniamo e anche l'innovazione portino anche a un buon sviluppo della provincia questo è importante, altrimenti non ne avremo bisogno. Per quanto riguarda l'innovazione i contributi ammontano a 20.700.000 euro mentre sono circa 6 milioni i fondi destinati al TIS per lo svolgimento di determinati servizi altri 5.100.000 euro sono per il Fraunhofer Italia, IIT e per il progetto per l'acquisto di autobus ad idrogeno 3.900.000 euro il totale dei fondi a disposizione del programma 2019 per l'innovazione sfiora quindi 33 milioni di euro. Grazie. Grazie.